la registrazione video e poi la tagliamo sta facendo San Valentino non capisco lo vedi che mi dice ma forse l'audio può darsi l'audio perché è tolto l'audio vediamo cosa succede qual è quella mi luna, mi luna, mi luna mi luna, mi luna, mi luna torna a tua pace mi meno di sapori mi conciano un paru mi rischi vendita io tutti a parlare la cosa mi luna, mi luna, mi luna, mi luna Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.